A Mosul le forze irachene, sostenute dai militari americani e dai rai daerei della coalizione, hanno riconquistato un quartiere occidentale della città, Roccaforte dell'Isil, strappandolo ai miliziani dopo feroci scontri. La zona di Tayaran, ha fatto sapere la polizia, è sotto il pieno controllo delle truppe. Le unità ingegneristiche dell'antiterrorismo hanno aperto passaggi sicuri per i civili in fuga e le truppe militari. Questo ha permesso massicci spostamenti di persone. Le truppe irachene hanno compiuto un'avanzata in zone densamente popolate e le unità dell'antiterrorismo stanno bonificando il quartiere di Al-Mamun, da cui domenica mattina sono fuggite almeno 3.000 persone. Sono ancora centinaia di migliaia, tra cui molti bambini, i civili intrappolati nelle loro case.